Se ne parlava già da tempo, ma è arrivata anche l'ufficialità. La Nazionale Italiana di Rugby svolgerà all'Aquila parte della preparazione in vista dei mondiali che si terranno il prossimo settembre nel Regno Unito. In particolare, in merito al secondo blocco di lavoro impostato dal commissario tecnico Jacques Brunel e dallo staff dal 12 al 25 luglio, sono state identificate le strutture del San Donato Golf dell'Aquila e gli impianti sportivi messi a disposizione dall'amministrazione comunale del capoluogo abruzzese e dalle società del territorio. Gli azzurri, a quasi nove anni dalla loro ultima apparizione, la vittoria per 83-0 contro il Portogallo nel 2006, torneranno dunque sul prato dello stadio Tommaso Fattori per preparare la rassegna ridata e avranno a disposizione anche gli impianti di Centicolella e Piazza d'Armi. Siamo soddisfatti dell'esito dei sopralluoghi svolti all'Aquila, dice la FIR, e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale e in particolare le società reggbistiche del territorio aquilano per aver dimostrato da subito grande interesse e disponibilità. Le strutture che avremo a disposizione sono di alto livello, meglio di quanto potessimo aspettarci. Quella del ritiro sarà dunque un'occasione unica per tutti i reggbisti e gli appassionati abruzzesi per conoscere da vicino Capitan Paris e compagni, nella speranza che il calore e l'entusiasmo che da sempre la nostra regione riserva alla pallovale possano aiutare gli azzurri a preparare al meglio la trasferta inglese.